Mamelsbury è una piccola cittadina a sud ovest di Londra, abbastanza insignificante tutto sommato, però è una cittadina antica, risale ai primordi dell'Inghilterra e qui c'è questa importante abbazia che è stata abbattuta, ricostruita nel corso dei secoli ma risale all'anno 1000, una parte dell'abbazia ancora in piedi ma una parte che era stata distrutta è rimasta così distrutta ed è la parte che mi ha intrigato perché diciamo che questi spazi aperti verso questo paesaggio inglese freddo, era una giornata nuvolosa, mi ha inquietato, era un luogo inquietante ed era vicino anche a un cimitero come spesso capita nelle chiese inglesi, questa cosa mi ha suggestionato e mi ha come dire dato la sensazione che il luogo fosse circondato da fantasmi, fantasmi del passato come anime in pena che vagavano ancora attorno a questo luogo e diciamo che questa fotografia credo che in qualche modo restituisca queste mie sensazioni un po inquietanti. Grazie a tutti!